sapete cos'è l'industria 4.0 la quarta rivoluzione industriale basata sul digitale ne ha parlato quest'oggi in irpinia il presidente nazionale di confindustria boccia alla presenza del governatore della campagna de luca e di un folto parterre di politici e di istituzioni locali si è parlato di innovazione di crescita in una provincia che è messa piuttosto male se ancora oggi alla ema di morra de santis che produce pezzi per aerei e per navi bisogna inviare i progetti a roma non attraverso internet in quanto non c'è la banda larga ma attraverso una valigetta piena di documenti che viaggia su gomma o su ferro siamo messi male male e che dire poi dei trasporti eccezionali l'esempio riguarda il settore dell'edilizia quelle grosse travi che qualche volta vi sarà capitato di vedere lungo le autostrade scortate da auto ebbene per attraversare le strade di irpinia le imprese devono assumersi la responsabilità di eventuali crolli dei ponti delle strade molte imprese rinunciano del tutto ad attraversare l'irpinia e ancora le ferrovie che mancano lungo le rotaie cresce ormai l'erba che cosa dire l'industria 4.0 arriverà prima o poi bisogna puntare sull'innovazione e sulla crescita ebbene fa il presidente nazionale di confindustria a dire che l'irpinia deve passare dai patti ai fatti dai patti che il governo ha sottoscritto con la regione per progetti di rilancio e che debbano essere concretamente finanziati in irpinia a che punto è l'industria 4.0 a 0 e questo è il punto